Con paste lucidanti puoi togliere l'ossido dei metalli, ma l'effetto non dura molto. Solo con gli antiossidanti protettivi LG, RS e RS Bianco Black Traction puoi togliere l'ossido, rinnovare e proteggere con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima da nessun altro prodotto o sistema concorrente. L'applicazione è facile e super veloce, a pennello, sul materiale asciutto e non reso bollente dal sole, e dopo qualche minuto si passa con un panno per uniformare l'applicazione e togliere il prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito. LG è un prodotto Black Traction antiossidante protettivo, senza silicone, senza cera e soprattutto senza corrosivi, con caratteristiche uniche per resa, resistenza e lunga durata d'effetto. LG è un prodotto